Credo che ad oggi sia passata all'incirca una settimana, forse è grave proprio per chi crede nella democrazia che la massima espressione della città non sicuri di questo particolare. Nessuna risposta da parte del primo cittadino Luigi Guidano e presidente del Consiglio Comunale di Taurisano alla lettera che il gruppo d'opposizione Continuiamo Insieme ha inviato nei giorni scorsi missiva che ha ricevuto anche il prefetto di Lecce Luca Rotondi e nella quale è stato definito antidemocratico l'atteggiamento di chi dovrebbe garantire la convocazione per tempo di Consiglio e Commissioni, cosa che non sembra avvenire nel Comune Salentino. Dal primo giorno noi consiglieri di opposizione abbiamo rappresentato la nostra disponibilità nel collaborare ed essere propositivi con questa maggioranza di governo cittadino per risolvere i tanti problemi che purtroppo si vivono nella nostra comunità. Tante questioni per le quali purtroppo non siamo stati coinvolti. Aspettiamo dei segnali anche su alcuni temi che sono stati sollecitati e che il Sindaco ci aveva assicurato in breve tempo che avrebbe portato a conclusione abbiamo votato a favore del piano del colore presentato due giorni prima ma siamo riusciti a leggerlo e abbiamo votato a favore sull'adeguamento del regolamento edilizio comunale e allo schema tipo regionale abbiamo effettuato un voto di astensione. Il gruppo in attesa di una risposta in segno di protesta ha deciso di non prendere parte ai lavori della conferenza dei capigruppo e delle commissioni oltre al consiglio comunale chiedendo rispetto per il loro ruolo e per l'elettorato che rappresentano.